Emanuele Blasi sta per partire questa stagione ufficiale del Canine, che sensazioni ci sono? Siamo abbastanza ottimisti, stiamo facendo questi amicheoli proprio per trovare la forma ottimale, per partire poi comunque alla grande, mi manca poco, tra poco partiamo e ci stiamo preparando per questo. Dal punto di vista della tua preparazione qual è il livello in questo momento? Sto bene, ho avuto un piccolo problema al flessore della gamba sinistra e ho recuperato, però precauzioni, siamo ancora un po' fermi. Come te la immagini questa avventura? Non lo so, ve lo dirò, ve lo farò sapere, ancora bisogna cominciare, sono curioso, emozionato e comunque ho gran voglia di far bene e dimostrare che ancora posso giocare a calcio. Parliamo un po' del campionato e anche della Champions, ieri la Juventus è tornata a vincere, sei rimasto sorpreso di questa impresa? No, rimanere sorpresi se la Juve vince mi sembra un po'... No, visto l'inizio del campionato, visto l'inizio della stagione. Però la Coppa Campioni è un'altra cosa, non è il campionato e lì secondo me c'è anche una concentrazione diversa da quella del campionato e la Juve ha tutti i mezzi per far bene anche quest'anno e quindi penso che il prima possibile si tirerà fuori da questa situazione diciamo un po' complicata dell'inizio. Ha risentito fino a questo momento eccessivamente delle grandi partenze? No, non lo so. Io penso che la Juve sia una grande squadra e quindi adesso è cominciato sicuramente male, non ci si aspettava che la Juve potesse cominciare così male ma ha dei grandi giocatori, ha un grandissimo valore e quindi problemi penso che non ce ne siano. Buffon come lo collochi in una tua ideale classifica dei portieri? Buffon a mio avviso rimarrà sempre un portiere forte al mondo anche se passeranno gli anni rimarrà sempre il top. Parlando invece di lotta per lo scudetto, la Roma è la tua favorita oppure no? La Roma, l'Inter quest'anno secondo me possono giocarsela benissimo ma secondo me la Juve tornerà nelle prime posizioni e anche il Mila comunque non è male quest'anno. È sempre difficile capire chi vincerà lo scudetto e sono quelle tre o quattro squadre che secondo me se la lotteranno fino alla fine. Per quanto riguarda le tue ex squadre, la Fiorentina tra Europa, Liga e Campionato che tipo di stagione potrà fare? Io mi auguro un'ottima stagione, tutti i mezzi anche la Fiorentina potrà far bene e glielo auguro tutto il cuore.